amici del pokemon collection salve a tutti ben ritrovati e siamo qui per sbustare il 25esimo anniversario gran festa in italiano bella collezione di charizard doppia andiamo ad aprire la prima e vi ricordo di lasciare tanti bel like di iscrivervi al canale per non perdervi anche l'unboxing della seconda andiamo ad aprire la collezione ecco qua tiriamo fuori tutto il contenuto questo che cos'è gli allenatori diventano un tuffo nel passato eh bello hanno scelto bene fare un tuffo nel passato che hanno messo tanti belli artwork questo è la nostra promo jumbo carina carina non è male hanno fatto un bel nuovo arte non è malvagio per nulla malvagio l'art di charizard v di renz mettiamo a fuoco eccolo qua per nulla per nulla per nulla male lo teniamo di qua pacco di gran festa sempre tanta troppa plastica che utilizzano tiriamo tutto fuori codicino della collezione il regalo mi ricordo per chi riscatta di lasciare un bel like di iscrivervi al canale ci prendiamo andando una bella perfect size ci andiamo a infilare il nostro c'è una riservi di lenz poi mettiamo una bella slip più dura e lo infiliamo in collezione allora abbiamo oltre pacchetti nel 25esimo anniversario un bel voltaggio sforzo spolgorando e fiamme oscure che ci andiamo ad aprire non sono solito aprire questi pacco però codicino eccolo qua il regalo il trick quello a 4 e abbiamo energia lotta ariados vecchio pc l'airon l'arvesta spainarak scuovet rolet centret tedius e mister maim di gallar raro ci apriamo poi bel voltaggio sfolgorante immaginatevi troviamo il pikachu hyper nelle collezioni nel 25esimo ci spero molto poco ma chi lo sa chi lo sa chi lo sa magari il codicino eccolo qua mi ricordo di nuovo mi scende un bel like e un codicino ciascuno abbiamo energia psico l'odred kaguna electric the den wuper yamma tylow rucroof yamma reverse e la un come si chiama questo xernis 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 olografico ma va bene va bene non so se ce l'ho già tra tutte le oro andiamo a vedere se peschiamo qualche bell'art eccezionale del passato quelli che tanto ci piacciono andiamo 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 con il primo gran festa andiamo 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 and questo è carino molto carino chiogre bello con l'allenatrice ricerca accademica e ricerca accademica vabbè queste sono tutte rare noi abbiamo ricerca accademica con il codicino e proseguiamo proseguiamo queste un po' strane da aprire eccole qua vediamo vediamo che ricaviamo allora Cosmog bello l'arte non è non sono male non sono per niente maglia Cosmoy Zecrom bello e di nuovo cerca accademica che sfiga di nuovo cerca accademica apriamo ancora è bruttissimo in aprire sti pack allora di nuovo Zecro di alga oh bello Cleffa di neo ah queste sono rubide abbiamo preso una cartina discreta Cleffa di neo genesis e l'altra carta è Pikachu volo v Pikachu volo v qua si è visto qualcosina si è visto qualcosina e andiamo con l'ultimo pack di questa collezione ho visto che il video è riniziato non so perché fa così qualche impostazione strana vediamo vediamo ma si vede già una olo diversa va almeno questo almeno questo abbiamo oh oh di nuovo Zecro oh signori abbiamo peccato Venusaur non male ruvido però molto decendrato bruttino e Lunala e Lunala venticinquesimo Lunala venticinquesimo abbiamo pescato il Venusaur penso che siano queste quelle più rare le ruvide però mamma le stampano i piedi ragazzi e amici che dirvi se il video vi è piaciuto come sempre vi ringrazio della visione vi invito di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale salve a tutti e di iscrivervi